Infinite Power Ciao a tutti, sono Garamano e benvenuti nel mio regno Oggi siamo da soli, però noi ci mettiamo a piangere intanto qua è già iniziata la partita allora ognuno ha gli alleati, grazie mi fa risparmiare un casino di strada ora sono già il boss della madonna comunque il video sarà breve vi volevo dire certi aggiornamenti con lo stregone siamo arrivati a 2.95 infatti adesso siamo col cacciatore spero che non mi uccida faccio vedere brevemente a 2.52 abbiamo come pezzi soddisfatti con gli impugnatori sigillati e il falco lunare ok sono quasi morto addio ho visto che il video di minecraft vi è spiaciuto e uno di questi giorni ve lo riporterò oggi purtroppo ho giocato anche a FIFA però la mattina e mi saluto la mattina non registro quindi adesso mi sono ritrovato che stavo su Destiny mi sono detto facciamo un video di Destiny comunque vi invito a mettere un bel like a commentare e condividere se volete scrivetemi in un commento vi farò un video dove prendere tutti i frammenti calcificati sinceramente non li ho presi neanche io però so dove si trovano quindi se se lo volete come video ve lo faccio tranquillo in FIFA 15 inizieremo una serie con cioè due serie di cui uno sarà Road to Division 1 cioè dobbiamo arrivare in Division 1 perché non lo sappia e come seconda cosa faremo una serie su Pro Club con amici e così vedrete i nostri scleri in diretto oh mio dio ok comunque ho visto che i video notizie di Destiny anche vi piacciono e quindi ve ne porterò ancora di più perché ho visto che hanno fatto molti visual mi raccomando iscrivetevi per rimanere aggiornati e vedere che è un tipo di gioco come si gioca a questo ragazzuolo grandi ragazzi così si fa bravi 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 a tutti salutate di tutto salutate di tutto vabbè ragazzi quello che volevo dire ve l'ho detto mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo sempre domani con un prossimo video mi raccomando passate la descrizione bella grazie a tutti